Sono testimone oculare, la quarta guerra mondiale secondo me è in atto già. Io creo un evento e con questo evento modifico la realtà. L'11 settembre è stato un attacco terroristico, siamo d'accordo. Il terrorismo però si riferisce allo scopo, alla motivazione. Chi ha fatto quella cosa, va bene, spero che non si renda conto di ciò che ha ottenuto. Ma Bill Naden esiste o non esiste? La nuova arma è l'informazione, è la guerra delle informazioni in corso. I media appartengono sempre a qualcuno, dietro i media c'è sempre del denaro e c'è sempre qualcuno che decide. Oggi ci sono corporazioni che possiedono gli stati. Entro il 2025 è progettata la conquista del tempo atmosferico. Oggi quando io parlo di guerra ambientale globale in atto, io parlo di strumenti che esistono dal punto di vista tecnico-cientifico. E sono anche nelle mani di chi ha voglia di usarli. E' possibile che questo tipo di scienza abbia fatto dei passi giganteschi di cui noi, nemmeno lo scienziato, si rende conto bene. E a maggior ragione quello che sta con la forchetta è il potere giornale acceso. Il nemico lo devi prendere e trasformarlo in un consumatore di quei prodotti. Non ucciderlo. E' troppo facile uccidere il nemico. E' troppo facile uccidere il nemico.